Consigliere Mariani, cos'è successo ieri alla Regione? Commissioni saltate, perché? Ieri ancora una volta abbiamo assistito all'ennesima paralisi di questa maggioranza, sono saltate le commissioni prima, terza e quinta. Ciò che preoccupa è che abbiamo una Regione ormai ferma da mesi per faide interne, per scontri, tra l'altro non c'è neanche la dignità della forma perché queste azioni vengono largamente anticipate da dichiarazioni bellicose da parte di membri della maggioranza regionale e ciò che preoccupa è il fatto che l'Abruzzo va giù a picco, al di là dei proclami che amano fare. In primis possiamo guardare a ciò che sta accadendo sulla sanità terramana, quella abruzzese, che ormai è a pezzi, basta parlare con medici e personale che praticamente sono allo stremo delle forze. Ieri c'è stata l'elezione del nuovo Presidente del BIM per cambiare prospettiva, da Alonso, sindaco uscente di Cronialetto, eletto Presidente del BIM, però magari anche lì la politica ha avuto il suo bel da fare per arrivare ad una soluzione. Diciamo che ormai assistiamo sempre più ad un scompaginamento degli schemi politici, mentre una volta c'erano i blocchi più definiti, quindi i risultati erano anche più scontati. Oggi siamo abituati, negli ultimi anni, a non avere più questi schieramenti netti. Sono contento che a guidare questo ente ci sia un bravo amministratore, un bravo sindaco come D'Alonso, perché penso che al di là del fatto che può essere simpatico o antipatico, gli va riconosciuto che ha saputo far crescere Cronialetto e ha dato a Cronialetto una vetrina che era impensabile per un paese di montagna.